bravo che gli sto in un coneglio né un peccino convento al lato di perdita nisiquiera se immagina io mi sto in un canzoneo qui a Castello Bells per questo si vosotros veis a Mami le dicis che sei decente o camarero in un caffè non c'è non c'è nulla 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 e se veis a mi madre mi mu grazie